Sanita Simolese. Ortopedia e sanitari. L'azienda nasce come prima farmacia sanitaria ad Imola. Successivamente l'attività si è ampliata al settore dell'ortopedia. Presso il punto vendita troverete una vasta gamma di presidi per disabili, di carrozzine, tutori, elettromedicali, busti, calze curative, articoli per gestanti. L'azienda è specializzata in plantari su misura e analisi del piede computerizzata. Di conseguenza dispone di un vasto assortimento di calzature e ciabatte predisposte per plantare. Il nostro punto vendita offre servizio di noleggio carrozzine pieghevoli, diambulatori, letti, sollevatori e strumenti elettromedicali, TENS, magnetoterapia, pressoterapia, ultrasuoni e kinetec. Inoltre siamo convenzionati con ASL e INAIL. Alla Sanita Simolese troverete sempre un tecnico ortopedico diplomato a vostra disposizione, con regolare frequentazione di corsi di aggiornamento nel settore e sempre alla ricerca di materiali e dispositivi innovativi. La Sanita Simolese è chiusa il sabato pomeriggio. Contattando l'azienda telefonicamente avrete altre informazioni e un'accurata e cordiale consulenza.